Hai sentito parlare della recente notizia riguardante Kate Middleton e la sua lotta contro il cancro? Sembra che il principe William abbia dovuto trascorrere due giorni lontano da casa per motivi di lavoro, il che potrebbe significare che la principessa sta lentamente ma sicuramente recuperando. Dopo l'annuncio della diagnosi a marzo, Kate ha chiesto un po' di tempo e privacy per completare il ciclo di chemioterapia. Da allora, Kate è rimasta lontana dai riflettori, mentre il principe William è tornato al lavoro con un'agenda adattata alla situazione familiare. C'è chi ora parla della presunta, maledizione della principessa, un termine che fa riferimento alla suocera di Kate, Lady Diana Spencer, scomparsa tragicamente in un incidente nel 1997. Alcuni ritengono che Kate non diventerà mai regina, proprio come Diana, a causa di questa presunta maledizione. Le voci sulla «maledizione della principessa» sono alimentate anche dal fatto che Kate non si mostri in pubblico durante gli spostamenti tra le sue varie residenze. Alcuni credono fermamente che queste profezie siano infondate, in quanto anche Lady Diana non sarebbe mai diventata regina a causa del suo divorzio da Carlo. Tutto questo suscita molte domande e riflessioni sulla famiglia reale britannica. È difficile non chiedersi se esista davvero una maledizione che pesa sulla vita delle donne legate a questa famiglia. La salute di Kate Middleton è ovviamente la priorità in questo momento, ma è importante anche considerare il contesto storico e le credenze popolari che circondano la monarchia. La vicenda di Kate Middleton e la teoria della «maledizione della principessa» sono argomenti che destano molta curiosità e preoccupazione tra i sudditi britannici, ma bisogna anche considerare che la salute e il benessere di Kate sono la cosa più importante in questo momento. Ci auguriamo che la principessa possa superare questa sfida e tornare alla sua vita normale il prima possibile. Continua a seguire gli aggiornamenti su questa storia e resta sintonizzato per ulteriori sviluppi. La salute e il benessere di Kate Middleton, sono al centro dell'attenzione di tutti in questo momento, e ci auguriamo che possa presto tornare alla sua piena forza.